Ci troviamo davanti al parco di via Meucci nel quartiere di Montegranaro, l'area verde al cui interno è presente una piccola zona per bambini, oggetto di diverse segnalazioni da parte dei residenti e dei fruttori del parco che denunciano le cattive condizioni in cui versa il suolo pubblico. Più nello specifico, i cittadini hanno segnalato il pessimo stato in cui riversa il terreno, che presenta buche anche di notevoli dimensioni, panchine rovinate e mal ridotte e una vegetazione incolta e poco curata. Tra le diverse problematiche denunciate, buona parte di queste nascono dal mancato rispetto dei cittadini nei confronti delle regole da seguire. All'ingresso del parco, infatti, è presente un cartello che vieta l'accesso ai cani, ma nonostante questa proibizione, alcuni padroni degli amici a quattro zampe non si avvedono a rispettarlo. Numerosi, infatti, i cittadini che quotidianamente non smaltiscono correttamente gli escrementi dei propri animali, ignorando di fatto il segnale di divieto posto all'entrata della zona giochi. Un cartello che però versa in un cattivo stato e, di conseguenza, il comune di Pesaro si è da tempo adoperato per rapporre un altro cartello che indica il corretto regolamento da seguire all'interno dell'area verde. I frequentatori del parco hanno denunciato anche la costante inciviltà e non curanza del suolo pubblico da parte di alcuni cittadini, a causa di numerosi rifiuti non gettati negli appositi bidoni, ma lasciati sul terreno, come mascherine, cartacce e mozziconi di sigarette.